Sono proseguite tutta la notte tra sabato e domenica le indagini sull'omicidio di Giuseppe Giordano, il trentenne di Ascoli Satriano trovato parzialmente carbonizzato sabato mattina in un cappannone in disuso in località San Carlo, nelle campagne del comune Foggiano. Era uscito di casa alle nove e probabilmente aveva un appuntamento con la stessa persona, che poi lo ha ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Apparentemente un'esecuzione, ma gli inquirenti ritengono al contrario che si fidasse del suo assassino e che sia stato colto di sorpresa. Gli investigatori dell'arma hanno ascoltato parenti e conoscenti della vittima, ma non sono emersi i particolari utili alle indagini, così come non è stato compiuto alcun esame dello stub. I carabinieri stanno analizzando i tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Al momento l'unica certezza è che non si tratta di un omicidio legato alla criminalità organizzata. Nel capannone non sono stati trovati i bossoli né il cellulare della vittima, che forse era in auto ed è andato distrutto nell'incendio del veicolo. Le fiamme hanno lambito il corpo di Giordano, per questo parzialmente carbonizzato.